Siamo molto contenti oggi come amministrazione comunale, come settore welfare di presentare questi 5 progetti a cui abbiamo partecipato del PNR dedicati al welfare, esattamente la missione 5 sull'inclusione sociale. Naturalmente abbiamo partecipato insieme a tutti gli altri ambiti territoriali e regionali che sono ben 32 e fortunatamente su 5 progetti presentati abbiamo avuto l'approvazione e il finanziamento di tutti e 5. Le linee di investimento sono molteplici, vanno dalla genitorialità alla tutela degli anziani, alla disabilità e alle fasce più deboli come i minori e le famiglie naturalmente. Quindi questo ha un grande significato per noi, intanto perché lo abbiamo fatto in coprogettazione con gli enti del terzo settore e soprattutto perché diamo conseguenzialità al nostro piano sociale di zona che avevamo approvato proprio a giugno dell'anno scorso. E quindi il PNR va ad integrare una politica nazionale alla politica locale e questo deve essere lo spirito con cui si deve andare avanti così da permettere di implementare i servizi sul territorio e soprattutto di dare non solo sviluppo al territorio ma anche possibilità e opportunità di lavoro.